Ciao amici, benvenuti nel mio canale, nella mia cucina. Oggi preparerò un dolcetto, un più un cake al cioccolato. Seguite la ricetta, ciao! Tagliamo tre uova e mettiamo 160 grammi di zucchero mescoliamo il tutto, anzi frulliamo fino ad ottenere una spuma bella chiara. A questo punto mettiamo 90 ml di olio di semi fatelo scendere piano 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 e continuate a frullare fino a quando non l'avrete buttato tutto dentro. Setacciamo 270 grammi di farina 00 e 40 grammi di cioccolato fondente di polvere di cioccolato cacao amaro mescoliamo tutto dall'alto verso il basso senza smontare le uova mettiamo una bustina di lievito per dolci e mescoliamo versiamo 220 ml di latte e mescoliamo un pizzico di sale ora prendiamo una tavoletta di cioccolato da 100 grammi la spezzettiamo con un coltello e la mettiamo dentro il composto mescoliamo per bene e poi prenderemo una teglia da plum cake e metteremo il composto all'interno ricopritela con carta forno rivestitela poi mettete il composto all'interno una volta messo il composto nella teglia da plum cake spezzettiamo una tavoletta da 100 grammi di cioccolato bianco e lo mettiamo sopra poi inforniamo a 180 gradi per 45 minuti 50 una volta cotto lo lasciate 5 minuti dentro al forno spegnete il fornello e lo lasciate 5 minuti ora lo assaggio dentro c'è il cioccolato che si è sciolto vedete è buonissimo è buono se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella mettetemi qualche commento alla prossima ricetta ciao 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 ciao